Musica Bella a tutti ragazzi, qui Miri che si parla e come potete vedere sono tornato con un nuovo video, il secondo questo weekend Allora, secondo me ora, la prossima settimana caricherò pochi video perché ho molto da fare e quindi cerco un po' di portarvi avanti adesso Allora, oggi come gameplay di sottofondo ho deciso di portarvi un 70, 73 qualcosa del genere Con il Vector K10, con silenziatore e calcio regolabile su Yemeni, guarda terrestre, uccisione confermata Allora, secondo me è stato un gameplay abbastanza valido anche se le ricompense uccisioni hanno fatto un po' troppo il mio lavoro e con l'arma si vedono veramente poche kills Allora, devo dire che magari gli avversari non erano il massimo o io ero host, non lo so, però è venuta a fare una partita bella anche da vedere Allora, oggi come prima cosa volevo come sempre ringraziare Tommy ma soprattutto dare a Joker il benvenuto su Youtube, sulla community In quanto due giorni fa, dipende da quando caricherò questo video, ha caricato appunto il suo primo video su Youtube Secondo me ha fatto un bellissimo video, ha portato un lodestar col ballista, molto tutto di quickscope E soprattutto la cosa che mi ha stupito, essendo uno Youtuber proprio alle prime armi, d'altronde come me Ha saputo esprimere le sue opinioni molto bene, soprattutto con un buon commentario molto dettagliato e avvincente diciamo Anche se magari ha fatto un po' di casino con l'audio, ma quello la ovviamente migliorerà col tempo Quindi detto questo ragazzi vi invito tutti, tutti, tutti quelli che vedranno questo video a passare dal suo canale, ve lo metto in descrizione E credo che i suoi video potranno veramente piacervi Quindi adesso dopo aver salutato Joker vorrei parlare di un piccolo argomento che vorrei fare per i 200 iscritti che sto per raggiungere Che purtroppo riguarderà solo i giocatori su Playstation 3 Questo argomento è un Open Lobby che sto organizzando Che dovrò ancora decidere la data, però sicuramente farò per i 200 iscritti Per partecipare a questo Open Lobby dove ci faremo 2-3 partite insieme Dovrete solamente scrivere nei commenti partecipo e sotto Fare spazio barra spaziatrice o invio e andare alla riga sotto Scrivere il vostro ID PSN Vi arriverà la richiesta da zmidinohd che è il mio account Accettatela e poi in un prossimo video che arriverà in futuro io vi spiegherò quando, come, dove e perché No, vi dirò la data, quando trovarvi là per fare appunto l'Open Lobby Vedremo poi se usare i cecchini o magari fare anche un gruppo e andare su Guarda Terrestre Poi vediamo da quanti siamo Sapete che il massimo è 17 quindi se volete partecipare vi dico di sbrigarvi Perché siamo 18 massimo perché uno sono io e voi siete 17 E quindi, sì, detto questo volevo ancora ringraziarvi per gli iscritti Mi sto stupendo molto di come sta andando la mia avventura su YouTube In quanto quando ho iniziato il giorno del mio compleanno Un mese, pochi giorni fa Non avrei mai pensato di ottenere questi risultati Veramente, io ho iniziato pensando di avere poche visualizzazioni e di non riuscire a salire Invece stiamo salendo sempre più velocemente e questo mi fa veramente molto felice Ogni volta che io sento il mio cellulare cinguettare o fischiettare come si può dire E vedo un'email con un nuovo utente che si è iscritto al mio canale Mi sento bene e quindi vorrei ringraziarvi a tutti voi per questa grande gioia che mi state dando Quindi ragazzi, detto questo Volevo appunto spiegarvi i motivi perché settimana prossima probabilmente non caricherò video Allora, oggi è stato l'ultimo giorno di scuola Quindi probabilmente potete capire che avrei potuto iniziare a caricarli più velocemente Ma ovviamente la settimana dopo la fine della scuola è quella un po' dove ci si diverte di più eccetera eccetera E quindi penso che magari andrò anche a fare una gita, qualcosa, qualche giorno con i miei genitori E quindi non riuscirò a caricare video con molta regolarità Comunque forse uno o due video settimana prossima riuscirò a portarveli Detto questo volevo dirvi che a inizio luglio Non so per proprio che giorno però a inizio luglio Io avrò una piccola pausa di due settimane dovuta non a inattività o voglia Bensì perché parto in vacanza due settimane con la mia famiglia Però mi porterò dietro l'hepto per riuscirò a rispondere ai vostri commenti Magari anche perché no a caricare qualche video il cui gameplay ce l'ho già caricato sul PC Scusatemi Anche se non credo di esserne inabilitato Perché sapete bene in vacanza al mare non si ha neanche tanta voglia di mettersi a fare video Quindi ragazzi detto questo Spero di non avervi annoiato troppo col commentary Cosa che io ormai adoro dire Perché veramente secondo me una cosa che spinge un utente a guardare un video È il commentary perché il gameplay può essere anche bello Certo il gameplay spinge a guardare il video Però veramente ragazzi il commentary è una cosa molto importante Perché riesce a intrattenere l'utente Facendolo magari divertire e dargli qualche informazione Nei prossimi giorni come già detto non caricherò molti video Comunque qualche video riuscirà anche ad arrivare Vi ringrazio ancora perché stiamo arrivando ai 200 iscritti Scrivete qua sotto mi raccomando partecipo e il vostro ID online Quindi ragazzi spero che il video di oggi vi sia piaciuto Se è così lasciate un mi piace iscrivetevi al canale e commentate Quindi ragazzi per oggi dammi di noi è tutto e Bella Ciao 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 Ciao